Lungo la cresta del leone, provvidezza, qui abbiamo i nomi dei quattro primi salitori per concludere lo studio. Nell'aula di Valturnans il maestro Gino Barmas tiene lezioni, è una guida anche lui, ha partecipato a diverse spedizioni extraeuropee, i suoi allievi portano nomi famosi. Tu come ti chiami? Giorgio Menni. Ti piace il tuo maestro? Sì. Perché? Perché ci parla molto della montagna. Il tuo nome? Pierino Gaspar. Tuo padre cosa fa? La guida. E tu come ti chiami? Dino Carelli. Tuo padre cosa fa? Mio padre fa il maestro di sci. Tu? Mi chiamo Pacino Walter. Cosa fa tuo padre? Il padre fa... Guida Artino. E dove è stato tuo padre? Ma per tutto. Tu? Devo Tassion. Non sei mai stato in montagna? Sì, ho fatto la Punta Can, la Tre Carri, il Bretto, il Tunalen, il Cervino. Hai fatto il Cervino? Sì. Il 15 luglio del 64, assieme alla guida Carelli Luigi, ho detto Carlino. Ti diceva qualcosa Carrellino? Cosa ti diceva? Mi diceva di fare attenzione dove mettevo i piedi e le mani, per non scivolare e cadere in un buvole. Non hai mai avuto paura? No. Cosa fa Carrellino quando va in montagna? Come va su? Molto bene e canta. Cosa fa Carrellino quando va a fare attenzione dove mettevo i piedi e cadere in un buvole. Ci da me do Kinesi giù, come va a fare attenzione dove mettevo i piedi e cadere in un buvole. Grazie a tutti.